Ti piacerebbe ricevere un contributo del 65% per rinnovare le tue vecchie attrezzature? È quello che potresti ottenere partecipando al bando Inail, il cui scopo è aiutare imprenditori come te che vogliono sostituire macchinari obsoleti e pericolosi. Inail vuole che tu aumenti la sicurezza sul tuo posto di lavoro. Per questo ti offre la possibilità di migliorare la salute per i tuoi dipendenti e ridurre il rischio di infortuni. Ecco perché incentiva l'acquisto di attrezzature nuove e più sicure. Se hai un ristorante, una pasticceria, una gelateria, oppure se hai una piadineria, una pizzeria da sporto, un minimarket o un servizio mensa, allora rimani su questo video perché ti dirò quali sono le attrezzature finanziabili. Se invece hai un'azienda manifatturiera come una falegnameria o lavorazioni meccaniche, oppure hai un'impresa edile di movimento terra, allora clicca sul link che vedi sopra questo video perché ti illustrerò quali sono i macchinari e le attrezzature finanziabili per il tuo settore industriale e artigianale. Ma ora torniamo al settore della ristorazione, del minimarket, del settore dell'attività di asporto come pizzerie, piedinerie e gelaterie. Mi presento, sono Fabio Centurioni e da 20 anni ho uno studio specializzato in presentazione di pratiche di finanziamenti a fondo perduto, regionali, nazionali ed europei, per le imprese che vogliono ottenere finanziamenti a fondo perduto. E la domanda che tutti mi rivolgono è quali sono esattamente le attività ammesse a questo bando? Qui puoi vedere l'elenco dei settori di attività ammessi al contributo con riportato esattamente il codice a teco di attività di tutti i settori ammessi alla domanda di contributo di questo bando. La seconda domanda più comune che mi fanno è quali sono le attrezzature agevolabili da questo bando? Sono tutte quelle che hanno almeno un motore elettrico al suo interno, ossia non solo i forni elettrici per cuocere pizze e piadine, oppure impastatrici e planetarie, ma anche tutte quelle attrezzature che producono il freddo come vetrine e frigo e refrigeratori. La terza domanda che mi fanno è quali sono i requisiti che devono avere queste attrezzature? Allora la prima condizione è che è necessario sostituire la stessa attrezzatura analoga o simile, perché l'inel vuole che ti sbarazzi dei vecchi macchinari più rischiosi. L'attrezzatura la devi possedere da almeno due anni, controlla che tu l'abbia acquistata oltre due anni fa. Seconda condizione, l'attrezzatura deve essere più vecchia del 2010, quindi vanno benissimo tutte quelle attrezzature che hai già acquistato, già usate, ossia tutte quelle attrezzature che sono già state messe in funzione prima del 2010. Un cliente mi ha chiesto, io ho rilevato la gelateria quattro anni fa, quindi non rientro in questo bando perché le mie attrezzature non sono molto vecchie. La mia risposta è stata, scusa, ma da quanto tempo era già operativa quella gelateria che hai già rilevato? E lui mi rispose, eh beh, il precedente proprietario già la gestiva da oltre dieci anni. Gli ho detto, vai a vedere la targhetta di metano che c'è su ogni macchinario. Lui è andato a vedere la targhetta che c'era sulla vetrina frigo e sulla planetaria che doveva sostituire e tutti e due riportavano un'annualità precedente al 2010, per cui poteva accedere al bando perché erano tutti i macchinari più vecchi del 2010. Adesso è più chiaro a che cosa devi fare attenzione. Per questo bando più vecchie sono le attrezzature e meglio è. La domanda successiva che mi fanno è, ma qual è l'importo massimo del contributo e come si calcola? Il contributo massimo ottenibile è 50.000 euro. È un fondo perduto. Cosa significa? Significa che in caso di ottenimento del contributo ti arriva un bonifico sul conto corrente della tua impresa ed è un importo che non devi restituire. È a fondo perduto. E per calcolare il contributo devi applicare l'aliquota del 65% da applicare sull'imponibile del costo dei nuovi macchinari. Fabio, ma con tutte queste cifre non è che ci capisco molto. Mi chiedono, non è che ci puoi fare qualche esempio pratico che così capisco meglio come viene calcolato il contributo. Ecco l'esempio numero uno. È la pratica di fondo perduto che abbiamo impostato per una gelateria pasticceria che doveva sostituire le seguenti attrezzature. Ecco, in questo caso vedete che la pasticceria doveva sostituire il forno elettrico, la planetaria da 30.000 euro per una spesa totale da 70.000 euro. Il contributo a fondo perduto è 45.500 perché abbiamo fatto il calcolo del 65% a fondo perduto. Vediamo ora il caso numero due dove il ristoratore aveva l'urgenza di sostituire una lavastoviglie che costava solo 6.000 euro. Tuttavia il costo era troppo basso per giustificare il costo della pratica. Quindi gli ho suggerito di andare a verificare se avesse avuto altri macchinari e attrezzature vecchi che poteva sostituire. Anche in questo caso il ristoratore è andato a controllare il libretto di manutenzione dei macchinari e aveva constatato che la vetrina frigo era stata costruita prima del 2010 e l'impastatrice addirittura è stata costruita prima del 2008. Per cui abbiamo potuto inserire nella richiesta più di un macchinario. Nell'esempio numero due invece il nostro cliente doveva sostituire la vetrina frigo refrigerata del costo di 35.000 a cui ha aggiunto l'impastatrice da 25.000 e la lavastoviglie. Come dicevo nell'esempio ha aggiunto una spesa totale di 66.000 euro. In caso di ottenimento del contributo porta a casa 42.900 euro che non dovrà più restituire. La domanda più importante che poi mi fanno tutti quanti è ma quali sono le probabilità di poter ottenere il contributo del 65%? Ottenere un contributo così elevato non è una passeggiata. Ci sono due ostacoli che però noi siamo riusciti a superare grazie ai 13 anni di esperienza in questo particolare band. Nella fase numero uno occorre superare l'ostacolo del punteggio minimo per partecipare al band. Controllare se ci sono i documenti in regola a cominciare dal preventivo delle nuove attrezzature. I nostri ingegneri controllano la scheda tecnica del nuovo macchinario e simulano il punteggio minimo che devi superare, i 120 punti. Nella fase numero due occorre superare l'ostacolo del click day. È il giorno in cui viene assegnato il fondo perduto e questo lo superi solo se possiedi cliccatori esperti e qualificati che hai formato in molti anni di attività. Nel corso di 13 anni abbiamo selezionato 120 cliccatori tra ingegneri informatici e universitari per non lasciare nulla al caso. Pensa che iniziano ad esercitarsi quattro settimane prima del click day. Solo i più veloci e precisi verranno assegnati ognuno ad una impresa specifica che ci ha chiesto di poter seguire la sua pratica di contributo. Il premio è un contributo elevatissimo del 65% quindi non possiamo lasciare nulla al caso. È per questa minuziosità di dettagli che il mio studio riesce a portare a casa il 76% delle pratiche il giorno del click day. Pensa che il mio studio seleziona cliccatori fin dalla prima edizione di questo bando che era l'anno 2010. Questo significa che grazie alla mia squadra di 120 cliccatori siamo in grado di far ottenere il contributo a 76 imprese su 100. Ti seguiremo fino all'ottenimento del saldo del contributo che verrà bonificato sul conto corrente della tua impresa. Qual è adesso il prossimo passo che devi fare? Clicca sul bottone voglio la valutazione gratuita che trovi sotto questo video. Scarica il pdf e compili i moduli il più velocemente possibile perché se arrivi troppo in ritardo rischi che non riusciamo a simulare il punteggio, a suggerirti le correzioni da fare per portarti a 120 punti e rischi di perdere uno dei 120 cliccatori che potrebbero essere assegnati alla tua pratica. Quindi corri e clicca sul bottone voglio la valutazione gratuita. Un saluto da Fabio Centurioni, fondatore di ContributiRegione.it la guida più visitata in Italia sui fondi regionali, nazionali ed europei. Grazie.